Buon pomeriggio dalla redazione di E-Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che quest'oggi vede in primo piano la cronaca con un incidente avvenuto nelle scorse ore, nella prima mattinata di oggi sull'autostrada 4 in territorio bresciano. Un'autocisterna contenente candeggina si è ribaltata, non si teme tanto per le conseguenze per l'autista che è comunque stato ricoverato, quanto per le valutazioni attualmente in corso con i tecnici di ARPA per valutare l'impatto ambientale. Un camion cisterna contenente candeggina si è ribaltato nella prima mattinata di oggi sull'autostrada 4 fra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest in direzione Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6 e stando alle prime voci sembra che non ci siano feriti gravi. Un uomo di 52 anni, con tutta probabilità l'autista del mezzo cappottato, è stato ricoverato in codice giallo al civile, dove è giunto in ambulanza pochi minuti prima delle 7. Oltre alle inevitabili code, la situazione è da attenzionare più che altro per la sostanza che il camion trasportava, poiché vi è il concreto rischio di impatto ambientale. Sul posto sono infatti giunti per le analisi gli operatori specializzati di ARPA e anche il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco. Le verifiche sono tuttora in corso. La pagina dedicata al Covid ora che quest'oggi apriamo con il nostro sito web per osservare quelli che sono i dati diffusi da Regione Lombardia nella serata di ieri, li leggiamo insieme con pochi tamponi, positività al 3%, quindi questa possiamo dire sicuramente è una brutta notizia perché il 3% è un dato che non vedevamo da diverse settimane e sono anche in leggera crescita i ricoveri. Per i dati del dettaglio però osserviamo insieme l'infografica di Regione Lombardia, l'abbiamo detto già nel titolo, 10.511 tamponi processati, un numero davvero basso come sempre nel bollettino del lunedì sera, 326 nuovi contagi, 3,1% il tasso di positività. A livello provinciale Brescia oggi fa registrare 26 nuovi casi, il terzo dato in Regione dopo Varese che ne fa segnare 117, in questo caso, in questa giornata supera Milano che è al secondo posto con un più 91, in doppia cifra anche Mantova con 23, Monza con 19 e Como con 10. Per quanto riguarda i decessi, qui sì ci sono delle buone notizie, non c'è infatti un incremento e c'è appunto un segno zero e questo sicuramente è positivo. Per quanto riguarda i ricoveri, infine lo abbiamo detto, c'è una crescita, crescita abbastanza sostanziale per quanto riguarda le terapie intensive con un più 5 nei posti letto occupati che tornano sopra quota 30, sono 32 per la precisione, mentre per quanto riguarda i ricoveri non in terapia intensiva, quindi in area medica convenzionale, c'è un più 2, sono attualmente 210 i posti occupati in Lombardia. Proprio a causa del Covid sicuramente molti di voi o quantomeno qualcuno delle vostre famiglie avrà avuto una riprova di questo fatto durante il periodo del Covid, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, gli ospedali si sono in gran parte fermati o comunque molto rallentati su quelle che sono tutte le attività, possiamo definirle, quotidiane. Ebbene, la Regione vuole rimettere in moto questa macchina, vuole smaltire le liste d'attesa e proprio per questo, stabilito degli obiettivi, è stanziato 100 milioni di euro. I dettagli con l'assessore al welfare, Letizia Moratti. Abbiamo stanziato 100 milioni di euro per la riduzione delle liste d'attesa, 50 milioni per le strutture pubbliche, 50 milioni per le strutture private. Nonostante dai dati di Agenas la Regione Lombardia fosse stata considerata la migliore nel 2020 rispetto al 2019 nelle ricoveri d'urgenza e nonostante la parte chirurgica fosse rimasta costante, la parte chirurgica oncologica, abbiamo voluto con questi milioni stanziati dare un segnale importante perché le persone possano riprendere l'operatività negli ospedali e per questo abbiamo dato degli obiettivi molto concreti. Vogliamo un aumento delle prestazioni chirurgiche di 10 mila, vogliamo un aumento delle visite specialistiche di 90 mila e abbiamo fatto una mappatura in tutte le ATS e SST in modo tale che tutte le strutture ospedaliere sappiano quali sono le liste d'attesa che hanno per patologie. Questo ci consente un monitoraggio molto puntuale e molto trasparente perché vogliamo dare risposte concrete a tutti coloro che hanno bisogno di prestazioni ospedaliere che non siano prestazioni legate a Covid. Una ripresa per quanto riguarda gli ospedali, una ripresa che fortunatamente si sta verificando almeno in questo secondo trimestre del 2021 ma lo si è verificata nel secondo trimestre del 2021 per quanto riguarda anche il lavoro e l'economia. Negli scorsi giorni abbiamo visto come ci fossero dei dati da record per quanto riguarda l'industria e la manifattura bresciana secondo Confindustria Brescia questo dato è simile anche per quanto riguarda il settore terziario con una fiducia secondo appunto il Centro Studi di Confindustria Brescia che ha i massimi storici. Nel secondo trimestre del 2021 il clima di fiducia delle imprese bresciane attive nel settore dei servizi si è attestato a 149 con un deciso aumento rispetto al livello registrato nel periodo precedente quando era a 133 attestandosi vicino ai massimi storici da quando la rilevazione è stata avviata nel 2016. Ad evidenziarlo sono i risultati dell'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia al secondo trimestre 2021, risultati che si inseriscono nel solco di ricrescita evidenziatosi anche nella manifattura. Nel dettaglio per quanto riguarda i giudizi espressi dalle aziende sui tre mesi precedenti il fatturato è aumentato per il 56% delle imprese intervistate con un saldo positivo del 36% fra coloro che hanno dichiarato variazioni in aumento e in diminuzione. Gli ordini e l'occupazione evidenziano incrementi e i prezzi dei servizi offerti si caratterizzano per un'evoluzione leggermente positiva nonostante gli ingenti rincari riscontrati dagli input dell'ultimo periodo. Per quanto attiene alle prospettive dei prossimi mesi il fatturato è atteso in crescita dal 49% degli intervistati. I saldi riferiti al portafoglio ordini e all'occupazione descrivono uno scenario di possibile ulteriore rafforzamento dell'attività e i prezzi dei servizi offerti manifestano un saldo positivo del 9%. La politica ora perché da qui alle prossime settimane si entrerà in un clima fervente di elezioni per molti comuni della provincia di Brescia uno di questi è Rodengo Saiano cominciano quindi a scaldarsi i motori di quello che è tutto il tema elettorale intanto il centro-destra ha sciolto la riserva sul candidato sindaco e dell'ex vice sindaco Alexander Nisi. Sono orgoglioso di aver accettato la candidatura sindaco del comune di Rodengo Saiano ma la cosa che mi inorgoglisce è quello di essere ancora una volta sostenuto dalla mia squadra. Con Fratelli d'Italia e la Lega abbiamo svolto a Rodengo Saiano un grandissimo lavoro i risultati sono sotto gli occhi di tutti abbiamo posto in essere quella che è la politica dei fatti concreti. Con questa candidatura e questa squadra noi intendiamo presentarci nuovamente alle elezioni amministrative intendiamo vincere perché non possiamo fermarci qui. Queste insomma le prime parole diciamo così dopo l'investitura ufficiale di candidato del centro-destra per quanto riguarda la corsa a sindaco di Rodengo Saiano. Ritroviamo ora la cronaca perché ancora ricoverato in gravi condizioni purtroppo al civile l'operaio che stava manovrando un escavatore a Garniano nella mattinata di ieri purtroppo si è ribaltato dopo uno smottamento. Stava manovrando un piccolo escavatore quando a causa di uno smottamento il mezzo si è ribaltato. Tanta paura a Garniano nella mattinata di lunedì per un incidente che ha visto e coinvolto un uomo di 45 anni. Come detto siamo sul Garda per la precisione a Garniano in via panoramica poco prima delle ore 9. L'operaio alla guida della Ruspa a seguito del ribaltamento si è visto catapultato fuori dall'abitacolo e la situazione è subito apparsa grave. Per i soccorsi sono stati allertati i vigili del fuoco, i carabinieri di Salò, il personale della SST del Garda e ovviamente i sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca di Limone e un'automedica. Viste le condizioni del malcapitato è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero decollato da Brescia. L'allarme era stato lanciato in codice giallo ma dopo le prime cure l'allerta è passata al codice rosso e l'uomo è stato elitrasportato d'urgenza al civile di Brescia dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Una bella iniziativa ora che arriva dai genitori di Greta Nedrotti. Ricorderete la giovane di Toscolano Maderno che è rimasta uccisa nell'incidente dello scorso 19 di giugno nel golfo di Salò. Una raccolta fondi insomma per cercare di donare un ROV, un robot all'avanguardia ai volontari del Garda. A Nuclos Mozzatori del gruppo volontari del Garda serve un nuovo ROV, un veicolo comandato a distanza per ispezionare i fondali anche a 400 metri di profondità. Il costo è certamente importante, 90.000 euro circa, ma siamo convinti che l'unione fa la forza. Queste sono le parole di genitori di Greta Nedrotti come riportate da Ansa, una sorta di richiesta di aiuto lanciata a tutti per venire incontro alle necessità dei volontari del Garda, che in quel maledetto 19 di giugno sono stati in prima linea nelle ricerche sotto le acque del golfo di Salò, dove dopo diverse ore è stato purtroppo ritrovato il corpo senza vita di Greta. Sogniamo che il nuovo robot possa chiamarsi Greta e Umberto, aggiungono i due. Un modo per ricordare i giovani uccisi dal motoscafo dei turisti tedeschi, facendo anche un enorme gesto d'amore per tutta la collettività. Abbiamo acceso un conto corrente che, al netto di spese e tasse, useremo per dare un primo contributo dedicato a questo progetto, spiegano Nadia e Raffaele Nedrotti. Questo è il codice IBAN dedicato all'iniziativa, dove è possibile donare anche una piccola cifra per raggiungere un grande risultato. Grazie a tutti coloro che con affetto ci fanno sentire meno soli senza la nostra principessa, concludono Nadia e Raffaele, e grazie a coloro che ci aiutano a far luce, verità e giustizia per Greta e Umberto. Grazie infine al nostro lago che ci ha restituito la nostra Greta, bella come era, e ha protetto Umberto, cullandolo fino al mattino. Soltiamo decisamente pagina, buone notizie per 28 aziende agricole della provincia di Brescia, che riceveranno in totale una somma di circa 11 milioni di euro in fondi regionali per l'acquisto di nuove attrezzature e anche ovviamente per l'innovazione tecnologica. Un decreto che per l'azienda agricole della Lombardia vale circa 48 milioni per gli investimenti. L'annuncio lo ha dato l'assessore regionale Fabio Rolfi, che ha anche spiegato come questa misura integri i 151 milioni stanziati lo scorso marzo e finiti a 371 realtà rurali del territorio. Si tratta dello scorrimento della graduatoria del 2020, che ha quindi visto l'approvazione dei progetti proposti da altre 175 imprese che potranno utilizzare la cifra loro destinata per la realizzazione di opere e impianti oppure per l'acquisto di nuove apparecchiature. Non si tratta certo di una classifica, ma quando si parla di agricoltura, Brescia è sempre i primi posti. In questo caso è solo seconda, con 28 aziende che in totale beneficeranno di supporti per 11,1 milioni di euro. Numeri più alti solo per Mantova con 54 imprese e 14,4 milioni. Investire significa innovare, l'innovazione è la chiave per la sostenibilità sia economica che ambientale dell'impresa agricola del presente e del futuro, ha dichiarato Rolfi. Queste risorse sono un incentivo per la redditività e la competitività della nostra agricoltura, settore strategico per l'economia lombarda. Lo sport ora e lo apriamo questa pagina andando direttamente sul nostro sito internet perché poco fa, nella tarda mattinata di quest'oggi, è arrivata la notizia e come possiamo vedere insieme il Tar ha respinto il ricorso del Chievo, quindi il Cosenza viene ripescato in Serie B. Il Chievo Verona saluta la Serie B, il Tar del Lazio non ha accolto quindi il ricorso dopo l'esclusione del Club Veneto e quindi in cadetteria arriva ripescato Cosenza. Potete vedere, lo trovate anche sul nostro sito internet, queste sono le parole proprio del Tar, della sentenza del Tar pubblicate, tale e quale, insomma, un copio e incolla dal Cosenza Calcio sul proprio sito internet per annunciare così la risalita in cadetteria. Il Tar ha ribadito quanto già deliberato, insomma, nelle scorse settimane dal Covizoc e dal FIGC. La squadra veronese non è in regola perché risultano delle inadempienze tributarie per quanto riguarda il periodo che va dal 2014 al 2018. Questa notizia è importante, sì, per noi, insomma, per i tifosi del Brescia Calcio, certo perché da un lato, ovviamente, scopriamo qual è l'ultima squadra che farà parte della cadetteria, ma è anche ancora più importante nel prossimo futuro perché se fino ad oggi l'avversario delle rondinelle per il prossimo 27 agosto, quindi seconda giornata di campionato a Rigamonti era una grande X, era stata, diciamo così, estratta così dal cappello con tutti i nomi delle squadre, da adesso sappiamo che quindi la prima sfida casalinga del Brescia Calcio il 27 di agosto sarà contro il Cosenza. Ora proseguiamo e lo facciamo, insomma, andando a riparlare di quella che è stata la bellissima vittoria, o meglio, medaglia d'argento di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi, di una medaglia storica, una medaglia che mancava davvero tanto, quasi un secolo che nella ginnastica artistica femminile non arrivava, una medaglia per l'Italia. Nemmeno il tempo di interiorizzare l'oro di Jacobs nei 100 metri piani che Brescia può vantarsi di una nuova medaglia, è quella di Vanessa Ferrari che nella finale del Corpo Libero mette a segno un esercizio da manuale raccogliendo un 14,200, che fin da subito le è valso il secondo posto virtuale. Non sono riusciti a fare di meglio le ginnaste che sono venute dopo e questo secondo posto si è quindi tramutato in argento, un argento storico per la farfalla di Orzinuovi ma anche per tutta la ginnastica italiana. Basti pensare che l'ultima medaglia femminile in questa disciplina risale a quasi un secolo fa, al 1928. Meglio di lei ha fatto solo la statunitense Carey, che nella sua esecuzione ha ottenuto un 14,366 dalla giuria di Tokyo. Ci ho provato più volte e il destino sembrava una beffa, gli infortuni che mi hanno spezzata, ma io volevo ancora una volta la possibilità di giocarmi ancora le mie carte e non ho fallito. È storia una medaglia che fa storia il commento a caldo della Ferrari sui suoi canali social. Uno sfogo che rende bene l'idea di cosa questa medaglia significhi per lei. Una carriera ai massimi livelli, ma ha fatto semplice fra numerosi infortuni e difficoltà che l'hanno provata ma mai distrutta. Non ha infatti mai mollato da buona Bresciana Doc, si è sempre rimessa in piedi e ha continuato a lavorare incessantemente per raggiungere un obiettivo storico che dopo numerose partecipazioni alle Olimpiadi è finalmente arrivato. Italia, c'è magia nell'aria, la sentite, è la carica di Vanessa e i suoi tifosi. La magia nell'aria, c'è e come, in Italia e ancor più nella tua Brescia. E mai doma la farfalla di Orzinuovi, poco dopo quando ha rilasciato invece le interviste audio-video, ha detto che ok, va benissimo vincere l'argento, ma lei puntava all'oro. Sono partita che mi sarebbe piaciuto far suonare l'inno, io puntavo all'oro, poi vabbè è arrivato un bellissimo argento, io più di così non potevo fare, ho fatto l'esercizio perfetto, ho stoppato le diagonali, ho fatto tutta la parte artistica, i salti artistici, il giro, la coreografia bella, la musica spettacolare. Uno dei miei obiettivi era cercare di far emozionare la giuria e il pubblico che mi guardava e spero di essere riuscita anche a fare questo. E adesso la curiosità di tutti i tifosi, ma non soltanto, è quella di scoprire, di sapere se Vanessa Ferrari tornerà in pedana, lo tornerà in pedana specialmente per le Olimpiadi, che sono fra tre anni ovviamente non quattro, a Parigi. Sentiamo le sue risposte. Io avevo in mente di chiudere questo percorso, di questo quadriennio che poi sono diventati cinque anni al meglio, così è stato e adesso ci sarà un po' di stop e cercherò di capire cosa fare in futuro, quale sarà la scelta migliore per me. Il tuo allenatore non ha dubbi? Eh non lo so, adesso vediamo, lui non li ha. Io non lo so, devo valutare un po' di situazioni come sto anche e soprattutto fisicamente, perché gareggiare oggi dal di fuori sembrava tutto bello, ma io avevo molto male i tendini, infatti ho dovuto per saltare fare la mesoterapia e prendere qualche antidolorifico, perché sono riuscita a arrivare qua con un ottimo stato di forma, ma i miei piedi l'hanno sentito e veramente devo riuscire a trovare il modo di sistemarli prima di tutto. E allora Vanessa Ferrari che non scioglie le riserve, non chiude una porta ma non conferma la sua presenza, quindi staremo a vedere da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, anche come risponderà fisicamente e se quindi sarà presente alla prossima rassegna olimpica. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale, io vi ricordo solo che tutte le notizie come sempre le trovate sul nostro sito internet, eccolo qua, elivebrescia.tv, dove trovate anche la diretta di Elive in questo piccolo box e trovate tutti i banner dedicati come questo ad esempio per accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News e Elive Brescia Sport e riceverle così tutte le notizie direttamente sul vostro telefono cellulare non appena vengono pubblicate. Io vi ringrazio per averci scelto anche quest'oggi per la vostra informazione, vi invito a tornare con noi questa sera alle 19 per un nuovo appuntamento con l'informazione. Nel frattempo un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto!